Al bagno Susanna di Punta Marina è stata presentata la settima edizione del trofeo Lorenzo Morini che si terrà dal 3 al 5 agosto sulla spiaggia di Punta Marina. Grazie alle sponsorizzazioni di Fondazione Casa di Risparmio di Ravenna, Banca Popolare e Service sarà possibile destinare i proventi della settima edizione del trofeo al progetto Una Scuola per Mirandola. Come è cambiato e come è cresciuto negli anni? Intanto è cresciuto perché il numero dei partecipanti è cresciuto in modo esponenziale, siamo partiti il primo anno che avevamo 40 coppie, l'anno scorso avevamo 235 coppie e quest'anno penso che arriveremo a superare i 250 coppie, quindi per noi è una grossissima soddisfazione. Lo facciamo principalmente per il ricordo di Lorenzo, noi Lorenzo ce l'abbiamo chiaramente sempre nel cuore anche se poi per altri è diventato solo il trofeo Morini. Quest'anno si giocherà su 16 campi, ci saranno i tornei da Under 10 all'Open e per poter decidere quest'anno l'amatoriale ci sembra anche una cosa carina perché noi puntiamo moltissimo su quelli che vogliono iniziare questo bellissimo sport, quelli che verranno eliminati dai gironi faranno un torneo tutto loro amatoriale, quindi c'è la possibilità anche per quelli meno bravi di poter raggiungere anche dei podi impensabili. Main sponsor, quindi sponsor principale di un'iniziativa bella, legata appunto allo sport ma anche con un sottofondo benefico, perché avete deciso di seguirla questa iniziativa? Soprattutto per la seconda affermazione che ha fatto, è un discorso benefico, sono sinceramente sensibile a queste cose e quindi mi fa piacere, ho già partecipato a diverse iniziative utilizzando la mia ditta, cioè Turquoise, a favore di Unicef, a favore anche contro l'abbandono dei cani, nella campagna contro l'abbandono dei cani lo scorso anno, insieme a Radio Monte Carlo e a personaggi di Stiscia Notizia. E qui direi che è ancora più importante perché riguarda una persona che frequentava questo bagno, una brava persona, giovane, che è mancata, quindi direi che quale il miglior modo di poter contraccambiare in qualcosa dando una mano a questa manifestazione. Bettini l'ho conosciuto quest'anno, mi sono bastati alcuni minuti per capire che è della stessa pasta mia, quindi mi sono trovato bene e ok, abbiamo fatto le cose assieme. Spero funzioni bene e che si possa andare avanti nelle prossime stagioni, ecco, ho fatto nel mio meglio. Ma io mi auguro, come il più delle volte è successo, con lo spirito giusto, cioè ricordiamoci che noi siamo qui per fare una festa per Lorenzo e tranne, devo dire, l'anno scorso dove la finale non mi è piaciuta, ma per le altre sei edizioni è stato veramente fantastico. Giocare con amici, vincere e perdere, ma con allegria. E questo è quello che a me, a Mirka, ci fa contenti. Un'iniziativa importante, che quest'anno è arrivata alla settima edizione, negli anni è cresciuta, penso anche con una passione fondamentale alla base di tutti. Beh, quello è chiaro, io sono vent'anni, il primo torneo l'ho fatto vent'anni fa, oggi diciamo che non ne faccio quasi più, però mi piace ancora vedere, soprattutto i ragazzi, i ragazzi, perché finché giocano alla Chiatone, so cosa fanno e so che va bene così. Sara Pietracci per Ravenna Web TV